Ciao a tutti, bentornati sull'anglo di Saedori e benvenuti a tutti i nuovi iscritti che magari capitano sul canale soltanto oggi. Questo è un canale che si occupa di make-up e di beauty, ma anche di fashion e di fitness, essendo io nella vita anche una personal trainer. Oggi però parleremo di beauty perché andremo a vedere quelle che sono le novità che sono appunto arrivate a casa mia di recente, quindi ve le racconto un po'. Si tratta di novità skin care e hair care. Prima di iniziare col video però vi racconto subito che cosa ho usato sugli occhi, sulla bocca e sulle mani, perché è una domanda che mi fate sempre, quindi ve lo dico subito così vi levo la curiosità. Allora sulle unghie lo smalto che vedete ultimamente nei video e del quale mi chiedete sempre notizia è uno dell'ultima collezione della Ego Collection di Fabi e si chiama appunto Super Ego, lo adoro al mio preferito. Sulle labbra ho uno dei miei prodotti preferiti in assoluto, ossia una Long Lasting Liquid Lipstick di Wicon, le cosiddette tinte di Wicon, nella colorazione 11 lampone. E sugli occhi ho invece la palette, ho un trucco con la palette di Nabla, la Dreamy Palette, del quale ho praticamente utilizzato un po' di colore. Detto questo iniziamo subito. Allora iniziamo dai capelli, grande trend come sapete per quanto riguarda la skin care per le sleeping mask, che sono praticamente quelle creme da notte molto ricche che fungono diciamo da maschera, si mettono sul viso e poi non si tengono su diciamo tutta la notte e si sciacquano soltanto al mattino alcune e altre non si sciacquano affatto. Secondo questa diciamo filosofia anche sui capelli si può attuare diciamo un trattamento simile e questo infatti è un trattamento da notte riparatore per capelli molto secchi e rovinati con olio di jojoba, senza silicone, senza coloranti e senza parabeni. Questo voi lo potete quindi mettere sui capelli, tenere su tutta la notte e il giorno dopo non avete bisogno né di sciacquare i capelli né assolutamente di doverli lavare. Quindi è un trattamento ultra riparatore per capelli veramente molto secchi o che siano stati danneggiati. Dice non macchia il cuscino ed è praticamente a base di olio di jojoba. Questo io lo testerò perché devo iniziare ad utilizzarlo proprio questa settimana, mi sono riproposta, l'ho messo lì vicino al comodino e lo proverò. Quindi vi racconterò come mi trovo. Ho ricevuto da Heisenberg un nuovo prodotto viso, sapete che la mia skin care questa estate e la sto ancora terminando era basata sui prodotti Heisenberg. Usavo il siero la notte con la crema, prime rughe, anche se potrei forse utilizzare anche una crema rughe conclamate, no scherzo. In effetti nonostante l'età non ne ho assolutamente ancora molte, ho qualche rughettina, quindi secondo me è una crema che va benissimo. Mi sono trovata molto bene e poi di giorno usavo la crema giorno con un filtro di protezione 30. Li sto per finire e loro mi hanno mandato questa crema, la crema ricca, idratante, nutriente, antiradicali, liberi, protettrice per pelli normali, secche. Sempre con il loro brevetto trio molecolare. La proverò perché con i loro prodotti mi sono sempre trovata veramente molto molto bene. E niente, magari non so se la inserirò immediatamente nella mia skin care. Ad ogni modo arriva il video skin care perché secondo me, tempo, fine ottobre, terminerò i prodotti che ho in uso come skin care. Che sono quelli che in effetti mi porto avanti da tutta l'estate. Li ho utilizzati in luglio, agosto, settembre e ottobre. Sono quattro mesi che li uso. Mi durano veramente tantissimo i prodotti viso. Non uso molto prodotto perché vado di stratificazione, come sapete. Utilizzo vari prodotti, quindi non ho bisogno di abbondare con un solo prodotto. Faccio vari strati. Quando terminerò quelli, ragionerò un po' su come costruire la mia skin care. E assolutamente in novembre avrete il video skin care che tante mi chiedete. Sempre in tema di skin care mi è arrivata una novità dei laboratori Vichy. Che è praticamente il siero Slow Age. Questo siero è un siero che riguarda il trattamento quotidiano dei segni dell'età in formazione. Quindi un siero assolutamente prevenzione anti rughe, anti age. Con estratto antiossidante di radici di Baikalina più Bifidus derivato da probiotici. Dice pelle più forte e piena idratata che risplende di salute e di giovinezza. Quindi un siero che potrei per esempio sovrapporre, cioè sottoporre, nel senso che va messo prima. Lo metterei quindi prima del trattamento che magari avete visto adesso. Vi faccio vedere la boccetta che è veramente molto molto bella. È in vetro ed è praticamente sfumata, vedete, da questo colore verde fino a diventare bianca. Mi piace veramente tanto, la trovo molto carina. E ha anche un bel peso e io adoro i prodotti che abbiano un certo peso. Non lo so, mi danno una certa sensazione di lusso e di eleganza. Quindi insomma, siero della Slow Age, dei Vichy parecchio interessante. Anche di questo vedremo, se verrà inserito immediatamente, sicuramente lo utilizzerò. Ma vedremo in costruzione della skincare se rientrerà i prodotti di immediato uso. In questo periodo sono stata poi anche alla presentazione di una nuova linea di Backel, che si chiama Backel Only. Io vi avevo già parlato dei prodotti Backel. E praticamente questi prodotti sono stati creati da questa donna, che si chiama Raffaella Gregorio, che era una formulatrice in laboratori cosmetici. E dice che praticamente si era sempre chiesta quale utilità ci fosse nell'inserire nei vari prodotti cosmetici ingredienti che non apportassero benefici, ma addirittura che fossero dei rischi di essere sensibilizzanti o di portare delle allergie. Ed erano praticamente quegli eccipienti che devono essere aggiunti alla formula, su cui lei si domandava appunto perché inserirli. Allora ha avuto, dice, l'idea di creare prodotti composti con solo principi attivi ed è nata la linea Backel. In questo caso Backel Only è praticamente una linea composta da due prodotti. Il siero, che è questo qua, che si chiama siero anti-età notte, e la crema anti-età giorno e notte. Io nello specifico ho avuto in omaggio appunto il siero. Eccolo qua. Eccolo qua. Anche qui il pack è veramente molto bello. E vi leggo che cosa appunto dice il De Pian che mi hanno lasciato sul siero. Dice, contrasta i segni dell'età, riduce la profondità e la quantità delle rughe per una pelle dalla grana uniforme, levigata e distesa. È composto da 15 attivi che danno tutti quanti un beneficio alla pelle. E contiene ingredienti star come il tripeptide 29, l'idroxipropyl ciclodextrin, che è un attivo di origine vegetale che apporta miglioramento al tono e alla luminosità, e il calcium ketogluconate, che amplifica la sintesi di acido ialluronico e di elastina del derma. Aiuta a prevenire la perdita di tono e la formazione delle rughe. È un prodotto particolarmente di alta fascia, devo dire. È un prodotto piuttosto costoso, però abbiamo visto praticamente dei test che sono stati effettuati su delle donne che lo hanno provato dove veramente i risultati erano eclatanti, cioè proprio visibili, ragazzi, occhio nudo. Abbiamo visto le foto che sono state assolutamente certificate e depositate come studio e i risultati erano molto, molto, molto interessanti. C'era una grande differenza tra il prima e il dopo. Niente, quindi insomma, se siete interessate a vedere come funziona questo prodotto, insomma, vedremo se anche questo verrà inserito in skin care. Sempre in questo periodo, e sempre parlando di skin care, sono stata invitata alla presentazione di Selver Thermal, che è praticamente questo brand che sinceramente non conoscevo, per me è nuovo, che ha focalizzato la propria attenzione in tema di skin care sull'inquinamento, quindi su questo fattore di invecchiamento della pelle che ormai è un qualcosa con cui tutti dobbiamo fare i conti, soprattutto noi che viviamo in città fortemente inquinate. Quindi la linea, diciamo, che è basata sul contrastare questo agente negativo per la nostra pelle e a me è stata omaggiata la crema e il siero. Sono prodotti che si ritrovano nella distribuzione dei centri estetici, quindi praticamente li trovate nei centri estetici dove il trattamento Selver viene anche proprio effettuato sulle clienti, però ci sono anche le confezioni di vendita al pubblico e nello specifico io ho ricevuto la crema, eccola qui, questo è appunto la confezione esterna e questo è il barattolo di crema. Questo è invece il siero, quindi la sua confezione esterna e questo è il dispenser, il dosatore col dispenser appunto del siero. Ho il dépliant che è in lingua spagnola perché loro sono appunto di base in Svizzera e a Barcellona e vi leggo insomma qualcosina riguardante questi due prodotti. Della crema dice che i suoi attivi creano come uno scudo che frena i fattori esterni come la contaminazione ambientale evitando lo stress ossidativo e aiutando a preferire la comparsa di radicali liberi che sono il principale fattore di invecchiamento prematuro della pelle. L'SPF è 50, quindi la crema ha un SPF 50 che per me è importantissimo e poi il siero invece è un siero di nuova generazione che presenta un'alta concentrazione di attivi, protegge la pelle dalle aggressioni esterne come la contaminazione e aiuta appunto l'inquinamento e aiuta a riparare nello stesso tempo i danni provocati dall'inquinamento stesso. Quindi anche qua possiamo avere, ho proprio due prodotti già che possono essere abbinati. Io amo se ho diciamo lo stesso prodotto declinato in siero e crema utilizzarli insieme assolutamente. Anzi quasi sempre preferisco proprio avere una linea che si completa nelle varie fasi di crema giorno, crema notte, siero giorno, siero notte, contorno a occhi, mi piace tantissimo. Voi siete più di quelle persone che mischiano i prodotti a quelle a cui piace avere una linea completa da applicare, cioè tendete a comprare prodotti se scegliete una linea, cioè scusatemi, se scegliete una skin care tendete a comprare prodotti della stessa linea oppure no? A proposito di linee e di linee super profumate non posso non parlarvi dei prodotti che ho ricevuto da Erbolario. Erbolario, l'ho sempre detta questa cosa, è il mio brand preferito in assoluto per quanto riguarda le creme corpo profumate. Secondo me così ricche, così nutrienti, così profumate, così persistenti come le creme Erbolario non ce ne sono. E infatti quest'anno credo che la mia, diciamo, passione sarà tutta per Lilla Lilla di Erbolario che è un profumo che mi ha stregata, ero stata invitata ad andare alla presentazione della linea che si è tenuta al sana quest'anno da Erbolario e lì appunto è nato il mio amore per questa linea, perché le linee erano due, adesso vi farò vedere l'altra. Della Lilla Lilla mi è appunto arrivato la crema corpo che vi vorrei far vedere quanto è bello il pack. Già il pack esterno è molto bello, ma guardate quanto è bello il pack interno. È praticamente una scatola vellutata, rotonda, che contiene poi dentro la crema per un regalo. Uno dice, sai, regalare una crema corpo sembra quasi un regalo un po' misero all'idea. Poi vedete questa confezione vellutata, bellissima, sentirete la fragranza quanto è buona, quindi vi invito veramente ad andarla a sentire perché è la mia favorita dell'anno. Finora non c'è stato un altro profumo che abbia sentito che mi è piaciuto altrettanto. E se volete scoprire qualche profumo, diciamo, nuovo che quest'autunno è stato proposto, vi lascio l'articolo sia di Lilla Lilla di Erbolario che ho fatto sul sito in infobox, sia su tutti i profumi che invece ho potuto, diciamo, vedere in questo periodo presentati. Ho fatto un articolo dove ve li presento un po' tutti, faccio una carrellata con foto, prezzi, info e piramidi olfattive e anche quello ve lo lascio in infobox. Sempre di Erbolario, quindi ho ricevuto il profumo qua, anche lui contenuto all'interno di una confezione bellissima, vellutata e questa è la confezione da 50 ml, la boccetta, vedete, è così, rotonda e questo è Lilla Lilla. Ripeto, nell'articolo trovate tutta quanta la piramide olfattiva, ovviamente il cuore del profumo è dato dal profumo di Lilla, sempre della linea, poi ho ricevuto lo shower gel. L'altra linea che è stata presentata è invece Indigo, che è adatto a chi ama i profumi un po' più pungenti, magari con un twist un po' più maschile, se vogliamo, e infatti questo Erbolario lo indica come profumo che è possibile regalare anche ad un uomo. Allora, vi faccio vedere il profumo e vi dico le note che sono geranio d'Egitto, polvere di cacao, paciuli, vaniglia, vetivè. Quindi il paciuli e il vetivè, capite bene che già lo rendono meno femminile. Sono delle note che più spesso si ritrovano nei profumi maschili o che vengono utilizzate nei profumi femminili per renderli un po' più freschi e smorzare quella sontuosità, quella... Lilla Lilla è sicuramente più femminile, avvolgente, classico, elegante da donna, un classico profumo femminile della famiglia floreale. Mentre questo è, appunto, anche vedete dalla boccetta, adatto anche ad un regalo per un maschietto. In questo caso è contenuto dentro un sacchetto di velluto e poi, appunto, dentro la sua scatola. Anche in questo caso ho ricevuto il bagno schiuma e la crema corpo che vi faccio vedere. La crema corpo, anche in questo caso, come il profumo, è contenuta in un sacchetto e ha veramente un pack molto bello, però anche in questo caso, guardate, è molto molto elegante, però senza dubbio nel pack più adatta anche ad essere regalata ad un uomo. Quindi non soltanto le note, ma anche, diciamo, l'estetica, richiama senza dubbio un profumo che può essere un unisex. Altra linea che ho ricevuto è di Bottega Verde. Bottega Verde ha lanciato questa nuova linea all'avena, che è una linea che ha la particolarità di avere un altissimo percentuale di ingredienti di origine naturale. Stamente che Bottega Verde negli ultimi anni ha veramente cambiato tantissimo i componenti dei suoi prodotti, raggiungendo veramente delle percentuali molto elevate di ingredienti naturali. Certi prodotti della linea arrivano anche al 98%. È il caso, per esempio, del bagno doccia, extra dolce, pelli delicati o sensibili, che è appunto una delle proposte della linea. Vado random e pesco, così vi faccio vedere cosa c'è. C'è il latte corpo, in questo caso abbiamo il 97% di origine naturale. Abbiamo poi lo shampoo, due in uno, extra dolce, avena per lavaggi frequenti, che non appara bene, coloranti o siliconi. Questo è il pack, quindi due in uno. E invece poi abbiamo lo shampoo, quindi non shampoo e balsamo, ma semplicemente shampoo, per capelli e cute e delicata, adatto a tutta la famiglia. Ancora vediamo chi incontro. C'è il lavamani extra dolce, pelli delicate e sensibili. Anche in questo caso 98% di origine naturale. La crema balsamo extra dolce alla vena, anche qua, quindi per capelli. Anche qua senza parabeni coloranti e siliconi, quindi si sposa con lo shampoo. E poi abbiamo visto che c'era invece shampoo e balsamo due in uno. Il tonico viso extra dolce per pelli delicate o sensibili è il detergente viso extra dolce. Questi hanno 99 addirittura il tonico per ingredienti di origine naturale e 98 il detergente. Vi ricordo che di questi due prodotti trovate lo strucaggio test già online o sul canale, ve lo lascio qui in scheda, dove praticamente ho provato i due prodotti, li ho messi alla prova e ho visto insomma quale risultato danno una volta che si trovano a dover fronteggiare un make-up sul viso e quindi vediamo se, insomma, scoprirete dal video se sono riusciti a rimuoverlo e se li ho trovati sufficientemente delicati. Nella linea è presente anche una crema, è la crema viso pelli delicate o sensibili con il 97% di ingredienti di origine naturale e anche questa è con l'avena. Nel caso vi volevo segnalare che il latte di avena, per esempio, utilizzato per questa crema è così come l'avena utilizzata per tutti i prodotti è quella prodotta a Palazzo Massaini che è in pratica la tenuta che si trova, credo, a Pienza, vicino a Siena che è la tenuta appunto di Bottega Verde dove vengono coltivate tantissime delle piante che poi vengono utilizzate per produrre i cosmetici. Sempre riguardo a Bottega Verde sono stata invitata ad un evento bellissimo, praticamente hanno allestito una sorta di villaggio del Natale, era fantastico, è stato un po' strano già a metà ottobre vedere gli alberi di Natale, tutti i doni, un'atmosfera natalizia, le canzoni natalizie, però è stato anche molto bello. Questo era appunto l'invito all'evento, o meglio, era quello che conteneva la chiavetta dove tutte le novità vengono illustrate e praticamente dice quest'anno Bottega Verde ti invita a tornare bambina a entrare nell'atmosfera incantata del Natale. Ci saranno quindi oltre 100 idee regali cosmetiche tra omaggi, beni augurali, confezioni del coro, piccoli pensieri, doni importanti e tantissime novità. Tutte queste novità le potete trovare dal 24 ottobre sul sito in anteprima, quindi www.bottegaverde.it e a partire dal 3 novembre nei negozi Bottega Verde. Vi faccio vedere l'omaggio che mi è stato fatto. In questo caso ho una latta che si chiama Petali di Vaniglia. Sapete che ogni anno Bottega Verde propone delle latte veramente molto carine, che contengono tanti prodotti. Ragazze, stavo pensando in questi giorni di fare proprio un articolo che riguardava i cofanetti natalizi in genere dei vari brand perché ho notato che hanno veramente un costo molto accattivante rispetto al costo del prodotto singolo. E quindi se siete appassionate di un determinato brand vi piacerebbe provare i prodotti che non avete mai provato quindi un brand nuovo che non conoscete sappiate che i cofanetti veramente vi permettono spesso di comprare al costo di un solo prodotto, magari due o tre prodotti. Alcune volte tutti in full size, altre volte c'è la full size con delle mini taglie. Insomma, sono veramente un ottimo momento non solo per fare dei regali ma anche per accapparrarvi delle cose che magari volevate provare da tempo quindi per farvi degli autoregali di Natale spendendo veramente molto meno di quello che spendereste nei mesi successivi se doveste andare a comprarli singolarmente. Quindi ho deciso di fare questo articolo e di metterlo sul sito che vi ricordo è www.langolodiseidori.it dove pubblico un articolo ogni giorno di solito a mezzamattina tra la mezzamattina e l'ora di pranzo viene pubblicato l'articolo mentre i video, come sapete, vanno in onda alle 19. Nel caso della latta che ho ricevuto contiene la crema mani petali di vaniglia l'eau de toilette quindi l'eau de toilette alla vaniglia una piccola candela e poi una confezione di crema soufflé corpo sempre nella sacchetta che mi ha mandato Bottega Verde ho ricevuto invece e mi hanno proprio fatto fare da un calligrafo gli auguri di Natale vedete Buon Natale e Sai Dori uno dei pensierini che si potranno acquistare che è praticamente il bagno d'occia a bacio sotto al vischio con estratti di cannella di vischio quindi con dei profumi prevalentemente proprio natalizi di stagione che è appunto questo bagno d'occia con tutti i glitter non so se voi riuscirete a vederlo ma è praticamente doratissimo con tutta una cascata di glitter torniamo a Yves Rocher che mi ha fatto recapitare questa scatolina verde che contiene una nuova linea la nuova linea è la Elixir Jeunesse che ha una doppiazione anti-età e detox con estratto di afloia credo che si legga così ragazze non lo so esattamente afloia del Madagascar selezionata per le sue virtù di rigenerazione e di protezione no silicone, no minerali no scusate oli minerali e no parabeni e comprende la sleeping care il trattamento ristrutturante giorno l'acqua micellare la maschera flash ossigenante il roll on defaticante occhi e il siero doppia azione io qua dentro ho in pratica il gel micellare de maquillante quindi lo struccante anti-inquinamento e detox acqua micellare detergente la maschera flash benissimo perché proprio le maschere sono una delle mie passioni quindi la maschera mi piace tantissimo da provare è l'elixir jeunesse sleeping care che è appunto questo trattamento di riparazione anti-inquinamento da notte quindi ne parlavamo prima delle sleeping care e ho ricevuto appunto una sleeping care da provare eccola qua è nel suo tubetto verde ed è una maschera flash presumo perché ci vuole poco di posa sì 5-10 minuti quindi maschera flash ossigenante applicare uno strato generoso due volte a settimana lasciare in posa da 5-10 minuti puoi rimuovere l'eccedenza con l'aiuto di un dischetto di cotone ho ricevuto questo pacchetto ragazzi questo non l'ho aperto ancora è così come si trovava al momento non ho sbirciato visto che sono prodotti per capelli ma non ho guardato bene di cosa si tratti sono prodotti della My Organics e vado a spacchettare meglio infatti vedete che il fiocco è allentato perché ho tirato su e ho guardato e ho visto un pack bellissimo un impacchettamento stupendo allora dentro c'è appunto la cartolina My Organics dice cara Silvia i tuoi capelli sono danneggiati dopo l'estate abbiamo pensato alla soluzione giusta per te la linea Resurrection eccola qua quindi Risurrezione di My Organics farà risorgere i tuoi capelli rendendoli morbidi e splendenti come quelli di un angelo ci sono delle alette d'angelo e una marea ragazze di piume che veramente sono fantastiche vedete tutte le piume che si intonano perfettamente con il mio look di oggi perché sono bianche e nere poi c'è una fialetta ripiena di bacche di goji che voi ragazzi forse non sapete ma io assumo regolarmente ogni mattina la mia buona manciata di bacche di goji quindi grazie anche delle bacche di goji qua appunto c'è il comunicato stampa dice My Organics nasce nel 2012 dall'esperienza decennale dei fondatori nella cura dei capelli realizza prodotti utilizzando ingredienti certificati e coltivati con tecnica di agricoltura biologica e biodinamica ecco bene è buona a sapersi vedete vi racconto un po' il brand perché io non lo conosco contiene alte concentrazioni di oli essenziali puri estratti dalle piante e dai fiori secondo le più tradizionali antiche tecniche di raccolta e si ottiene un prodotto con ingredienti naturali quindi 100% l'intera gamma My Organics si adatta ad ogni tipo di capello e pelle quindi forse fanno anche prodotti per la pelle vedete gli aromi e colori che caratterizzano ogni essenza vengono conservati senza utilizzare additivi chimici risolvendo così il problema di prodotti troppo aggressivi e nocivi nel caso della linea Resurrection è per capelli molto secchi trattati sfibrati porosi e molto danneggiati sia a causa di colorazioni decolorazioni o comunque sia a causa della loro natura intrinseca è una linea a base di bacche di goji ristrutturante della fibra capillare atta a rigenerare i capelli in maniera intensa profonda e duratura quindi diciamo che le bacche di goji hanno un concentrato eccezionale questo lo so di vitamine B e C e polifenoli e il rarissimo germanio anche come attivo e contrastano il processo di ossidazione dovuto ai radicali liberi c'è anche poi l'acido ellagico nel goji che è un altro potente antiossidante che salvaguarda le cellule dall'attacco delle azioni dei radicali liberi e il ferro il magnesio lo zinco completano l'azione rigenerante e ristrutturante di tutta la fibra capillare quindi adesso che vi ho raccontato un po' il brand era doveroso perché sinceramente non lo conosco come magari altri che vi ho raccontato altre volte quindi imparerò a conoscerlo utilizzandolo abbiamo il supreme shampoo eccolo qua l'angel potion che è un leave in appunto che rende setosi e leggeri però i capelli e aiuta a spazzolarli a snodare appunto i capelli e li idrata aiuta a prevenire la formazione delle doppie punte quindi questo è il leave in poi abbiamo la miracle mask che è appunto la maschera post shampoo presumo e questi erano i prodotti quindi shampoo maschera e leave in rio che probabilmente entrerà a far parte della mia nuova hair care routine si avvicina il natale ragazzi quindi vi faccio vedere una novità dello siten alzi la mano chi non è assolutamente attratto come una gazaladra dai calendari dell'avvento io ho ricevuto uno dei calendari dell'avvento che quest'anno si preannuncia estremamente desiderato che è appunto uno dei due perché quest'anno lo siten ne fa anche un altro che è quello proprio versione lusso a cassetti quadrato con i cassettini da tirare fuori e questo invece è il più classico al libro che ovviamente non posso farvi vedere il contenuto di questi ma sappiate come l'anno scorso in dicembre pubblicherò nelle stories ogni giorno l'apertura della casellina del calendario dell'avvento se avrò la fortuna di averne più di una ne vedrete insomma vedrete più caselline al giorno quindi insomma non vi posso dire che cosa contiene anche se qua dietro ovviamente c'è una spoiler quindi se dovete andare a vederlo in negozio sappiate che qua dietro trovate ovviamente che cosa poi ci sarà giorno nel complesso dentro il calendario ma non vi sciuperete la sorpresa di vedere giorno per giorno che cosa salta fuori io personalmente non vado nemmeno a leggere quello che c'è dietro perché insomma non voglio sciuparmi del tutto la mia la mia sorpresa altra novità profumosa si tratta della Gorilla Gallery scusate la Gorilla Gallery era appunto questa sorta di mostra itinerante con il quale venivano anche presentati i profumi della Gorilla Perfume che sono praticamente i profumi di Lush che giungono alla loro quarta edizione quarto volume per meglio dire infatti già tre volumi sono stati lanciati precedentemente da Lush i profumini sono questi qua in questo formato da 30 ml ma credo ce ne siano anche da 50 ml e praticamente ne sono stati lanciati credo 14 nuovi sono profumi ragazze molto particolari molto 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 sottolineo molto quindi se cercate un profumo che non sia il solito profumo commerciale che diciamo ci riporta a note non dico già sentite ma ad accordi un po' già sentiti effettivamente troverete senza ombra di dubbio degli accordi molto strani molto particolari certi vi piaceranno da morire altri vi faranno magari anche storcere il naso perché si tratta veramente di accordi fuori dagli schemi fuori dalle righe quindi vi invito ad andare da Lush a scoprire le 14 nuove profumazioni che fanno parte del quarto volume poi però ce ne sono tantissimi altri che fanno parte dei vecchi volumi numero 1 numero 2 numero 3 magari potreste trovare anche fra quelli il vostro preferito io nel mio caso ho il Tank Battle che onestamente sapete che non ricordo quale sia la la sua piramide olfattiva vi rimando però ovviamente al sito di Lush dove trovate tutte le informazioni ultime due novità sono stata invitata al party di bellissima dove c'era anche la famosissima bellissima instagramatissima fotografatissima chiacchieratissima Belen l'ho vista dal vivo ragazzi secondo me è veramente molto molto bella quindi insomma so che ci sono sempre detrattori fan chi l'ama chi la odia chi non la sopporta chi la trova bellissima chi non la trova bella a me è piaciuta tanto l'ho trovata veramente molto bella durante appunto il party sono state presentate anche delle novità che riguardano quindi tutti gli attrezzi per accunciare i capelli e a proposito nel sito metterò a breve credo l'articolo riguardante queste news non se ne ha mai abbastanza di capelli ricchi lisci con le onde con i boccoli insomma chi più ne ha più ne metta perché tanto è sempre benvenuto un qualcosa che dia un nuovo look ai nostri capelli e mi è stato però omaggiato un qualcosa che non ha a che vedere con i capelli ma con il trucco mi è stato omaggiato questo specchio è una sorta di specchio con 12 led che vi vado a far vedere magari ve lo farò vedere proprio in opera vedete che è questo specchio così che ha questo supporto che si può andare ad applicare su una qualsiasi superficie con delle ventose da quello che ho capito e funziona e funziona a pile però in sostanza è uno specchio proprio luminoso con 12 led l'applicazione con ventose o fisse su ampi specchi o su pareti verticali oppure l'appoggio anche su superfici orizzontali ha 12 led a basso consumo e un ingrandimento 3x funziona a batteri termino con una novità lì dell'italia che in questo caso però ho comprato con i miei soldini si tratta della spazzola per il corpo pelle liscia ed uniforme in un batter d'occhio che praticamente va anche qui a pile è una spazzola peeling utilizzabile sotto la doccia per la pulizia profonda della pelle vedete è questa spazzola sul quale si monta appunto la spazzola cioè questo supporto sul quale si montano proprio le setole ve la faccio vedere perché hanno fatto una scatola molto intelligente per non fare aprire tutte le scatole ai frequentatori della lidl vedete aveva questo sportellino e già potevi sbirciare dentro io infatti ho fatto così ho visto come era fatta e ho detto la voglio comprare quindi vedete vi massaggiate il corpo e a me interessa per la zona glutei gambe per fare una sorta di scrub per riattivare la circolazione insomma mi è sembrata veramente molto interessante quindi ditemi se vi interessa una review perché inizierò ad utilizzarla e vi dirò come mi trovo sapete che con il metodo della spazzola che utilizzo già da tempo ma con spazzole manuali mi trovo benissimo trovo che riattivi in maniera eccezionale la circolazione che quindi sia un ottimo strumento che può coadiuvare con tutte le altre cose che potete fare ovviamente quindi creme e ovviamente anche dall'interno alimentazione bere tanto eccetera eccetera sport mangiare sano trovo che sia un ottimo sistema insomma che ci dà una mano per combattere la cellulite quindi fatemi sapere se vi può interessare l'ultima cosa che vi volevo segnalare non riguarda il beauty ma il make up ma mi ero dimenticata di inserirla nella grande haul spacchettamento che avevo fatto precedentemente che se non avete visto vi lascio in scheda che riguardava il make up si tratta del Lash Renegade Mascara del quale ho sentito dire meraviglie perché ne pare che questo mascara sia veramente una bomba quindi anche di questo potrei per esempio fare un video applicazione o utilizzarlo in un get ready o fare un articolo sul sito non lo so datemi i vostri suggerimenti d'altronde i contenuti che pubblico sono per voi quindi se vi interessa di più una review scritta con l'articolo con le foto fatemelo sapere se vi interessa di più un video monobrand proprio dedicato solo e soltanto all'applicazione quindi ciglia senza mascara ciglia con il Lash Renegade oppure se vi interessa che io lo inserisca in un trucco completo durante un get ready with me fatemi sapere perché è sempre utile avere il vostro parere e ragazzi questo era tutto veramente per questa mega carrellata beauty hair care qualcosina appunto di make up insomma c'era un po' di tutto quindi se il video vi è piaciuto mi fa piacere se vi lasciate il vostro like se non siete iscritti al canale avete visto questo video vi è piaciuto vorreste vederne altri non vi resta che cliccare iscriviti qua sotto così sarete sempre aggiornati su tutti i video che pubblicherò sul canale è gratis non costa nulla ma vi renderà appunto aggiornati in merito ai contenuti perché vi apparirà in home page nelle vostre pagine iscrizioni il video man man tutte le volte che io lo carico insomma apparirà nella vostra home iscrizioni deciderete solo lì se cliccare o meno e basta questi sono alcuni dei video caricati ultimamente sul canale ci vediamo domani alla stessa ora alle 19 con un nuovo video ciao